L'ambruschetta ventesimo, se la tira? A me sembra di no. È uno youtuber con una grande capacità, è sul web da tanti anni, ha centinaia di migliaia di follower, di iscritti, vive in Svizzera, va nei night, va con le donnine, non ha donne, è un infelice, è disoccupato, fa finta di lavorare, fa il meccanico per finta. L'ambretta scassata, ha fatto un raduno che grida vendetta. Comunque è uguale, dai, in un posto non so cosa... Non ho capito, non voglio sapere che posto è. Comunque, chi se ne frega. L'ambretta scassata, l'ambruschetta ventesimo, l'ambrusco, ma beviti l'ambrusco! Viene attaccato, vi ripesa addirittura una donna, uomini di tutti i sessi, lo attaccano perché sono invidiosi. Gli youtuber che attaccano l'ambrusco, l'ambrusco ventesimo, sono invidiosi perché lui è un uomo con le controballe è uno che ti parla di auto, ti parla di buche, ti parla di politica, di economia, di borsa, di finanza, di stile di vita, di natura, di religione, cosa vuoi di più? È un uomo completo, voi siete incompleti, non vi segue nessuno, e allora trovate il modo di attaccarlo. Ok? Trovate il modo di offenderlo. Questo è molto grave. offendere le persone per ottenere visualizzazioni iscritti è la cosa più grave che una persona possa fare. L'ambruschetta non se la tira, è così lui di persona, io l'ho conosciuto personalmente l'ambrusco. L'ambrusco, ma beviti un ambrusco, lì beve l'ambrusco, tortellini, sangiovese, piadina romagnole, squacquarello. Ok? Sì, va anche nelle basse bergamasche, ma cosa fare? Coglie le noccioline, nelle basse bergamasche, non c'è niente, no, qualcosa c'è, sono anche molto belle, andate a visitarle. L'Italia è tutta bella, ecco, colgo l'occasione per fare un appello, andate a visitare l'Italia, ok? Un po' di nazionalismo. Ciao Giorgina!